Ecco la nuova serratura CombiLock di Meroni. È una serratura facilissima da applicare e semplicissima da utilizzare. Ideale per piscine, per palestre o per mobili d'ufficio. Per attivarla bisogna comporre una combinazione che deve essere inventata al momento. Per esempio facciamo uno, anzi nove, sei, otto, otto per esempio. Nove, sei, otto, otto. Io chiudo e l'armadietto è chiuso. In questo caso poi prima di andare via devo semplicemente scomporre la combinazione. E l'armadietto non si aprirà. Quando tornerò, che ho bisogno di aprire l'armadietto, comporrò la combinazione che era. Se non sbaglio era nove, sei, otto, otto. Otto, otto e sarà aperto. Se eventualmente invece il codice è stato dimenticato, quindi non si ricorda quale fosse il codice, esiste una chiave di sblocco che è in dotazione con le serrature, che semplicemente ruotandola bloccherà la combinazione al codice originario. Ed è sbloccata.